E scende il cancelletto di partenza anche per la finale B, nella categoria G5-G6 con Bravi, Zanella, no, le Pestiglio già parti, no, sono loro, sono loro, sono loro, Cattaneo, Rota, Piantoni, Buglieroni e Castelnuovo, e vediamo Olgiateco Masco, mamma mia per la seconda e terza posizione, pagare aperta, centrici mania che si infila probabilmente all'interno, andiamo a vedere come sbucano fuori dalla parabolica, i Raider, ancora Olgiateco Masco, poi Loreto le marmotte, si infila le marmotte, Rota in seconda posizione, poi in bicimania in terza, in questo momento Bravi, Matteo, categoria Esordinti, Mucetti, Bonanomi, Capello, Karenini,